A un anno dalla fase finale in Qatar, le ultime decisive gare per le qualificazioni ai mondiali. Sul 20, alle 20.35, giovedì 1 novembre, Grecia-Spagna. Sabato 13 novembre, Francia-Kazakistan. Domenica 14 novembre, Portogallo-Serbia. Martedì 16 novembre, Olanda-Norvegia. Qualificazioni Coppa del Mondo 2022. Gli ultimi posti disponibili si giocano sul canale 20.